Ciao a tutti, eccoci in questo nuovo video di presentazione del videogioco Flair Allora, ricontinuiamo con la nostra avventura YouTube Allora, come vi ricordo avevamo un'armatura, ma non possiamo ancora utilizzarla E una fionda A questo punto potremmo anche accettare la missione che ci indica quest'uomo, il soprintendente Però preferirei andare prima a collezionare un altro po' di punti Visto che siamo comunque quasi a livello 1 Ci potrebbe far comodo salire ancora di... cioè salire di un livello Prima di affrontare la nostra prima missione Allora, innanzitutto sconfiggiamo facilmente questi goblin qua vicino con la nostra fionda Il lavoro diventa tutto molto più facile una volta Che si possiede un'arma a distanza L'unica cosa su cui rimango un po' perplesso è il puntare il nemico Perché certe volte non è molto preciso E allora si rischia di sprecare inutilmente i propri click Puntando... credendo di colpire un nemico invece no Soprattutto da vicino Ah, come avete visto c'è già uno zombie qua Perché questa zona conduce poi a una zona piena di zombie Che dovrebbe essere qua vicino Sì, andiamo... Uuuuuh, managgia qua Rischiamo seriamente Ecco, non avessimo avuto Una fionda Credo che saremmo già in cattive acque Ci mancano ormai soltanto 20 punti Per salire a livello 19-18 Di qua forse ci siamo già passati Infatti non stiamo trovando granché L'inizio è un pochettino tranquillo Comunque non c'è nulla di che Poi man mano che si va più avanti Ci sono delle zone davvero molto complesse Da superare Anche perché è piena di... Di nemici di alto livello Soprattutto... Chi sta... Puntando? Ah Tra l'altro devo dire che è molto comodo Questo indicatore Perché ci permette di capire subito Con chi abbiamo a che fare Col tipo di nemico E quindi se per caso fosse uno stregone O un insetto in grado di... Di teletrasportarsi Possiamo rendercene in conto subito Capendo prima che lui ci veda La strategia migliore da... Da attuare per affrontarlo Uh come potete vedere abbiamo trovato anche dei goblin di livello 3 Ecco questo è uno sciamano quindi può fare... Lanciare delle magie Però... Siamo sopravvissuti Con poca vita in realtà Quindi forse è meglio Tornare in là Con... Particolare attenzione A passare nei luoghi dove siamo già passati prima In modo da non... Non rischiare troppo diciamo Questa volta ho deciso di fare il video un pochettino più lungo delle altre volte Anche perché 10 minuti è proprio un video flash Non perché in realtà abbia avuto granché di visualizzazioni Però... Perché così almeno chi volesse provare a vedere il videogioco Non debba continuamente spostarsi da un video all'altro Credo che questa puntata la farò di circa 20 minuti No, quando ci serve dovremmo aumentare le nostre caratteristiche Allora, fisico potrebbe darci... Farci usare delle armi ravvicinate più forti Magico, difensivo Andiamo innanzitutto a vedere gli oggetti che ci vengono proposti Allora, con il fisico 2 possiamo usare il pugnale Che è danno da mischia da 2 a 6 Ah, come potete vedere ci sono vari oggetti Con delle specifiche successive Soprattutto quelli arrugginito, incrinato, rotto Hanno dei malus O comunque non forniscono gli stessi punteggi degli altri Un pugnale normale, per esempio, potete vedere che è danno da mischia da 2 a 6 Mentre questo, che è arrugginito da 1 a 5 Quello maledetto, invece, da un malus Cioè un decremento di precisione di 3 Allora, devo dire che non sono granché specializzato con una magia Quindi punterò o a un difensivo o a un offensivo Cioè a un fisico Questa dà un assorbimento di 1 Noi abbiamo un incremento di precisione di 2 Potrebbe essere interessante Perché ha un assorbimento di 1 E un incremento di precisione Poi abbiamo questa che è semplice E delle bacchette magiche Vedete anche queste Sono comunque abbastanza da scartare Preferirei venderle più che altro Come potete vedere si possono ricomprare gli oggetti Mi pare però soltanto nell'arco della stessa partita Chiudendo e riprendo il gioco Non c'è possibilità di riacquistarle Allora, io farei che acquistare un niente Un bel niente Perché È meglio così Perché i pugnali soprattutto vengono Si trovano molto facilmente in giro Quindi non mi conviene gran che spendere 10 di oro A meno che non voglia fare No, credo che prenderò il potere difensivo Difensivo, sì Difensivo più 1 Ok, allora Adesso potremo mettere subito la nostra armatura Ora in più possiamo sbloccare un Un nuovo potere Io credo che utilizzerò questo Perché immobilizzare è un È un potere molto comodo Soprattutto quando ci sono dei nemici pericolosi Lo metterò anche sul tasto 1 In modo che Usando il tasto 1 Immobilizzerà un Un nemico Come potete vedere è sceso di un punto di mana Infatti Tutti questi poteri qua Utilizzano dei punti di mana Per poter funzionare Sia il mana che la vita Vengono comunque incrementati Man mano che si gioca E ci sono anche degli oggetti Che possono aumentarli Adesso io andrei a recuperare Cioè ad accettare la missione Offertami dal sopraintendente Benvenuto alle nostre miniere Straniero Se avete la schiena per farlo Io ho il lavoro Ho sentito che potrebbe avere qualcosa di più interessante Ah tu sei l'avventuriero Se cercate adrenalina siete nel posto giusto Avevamo due guardie a distanza qua Entrambe sono state richiamate ad Ancelot Ora siamo vulnerabili Stiamo avendo dei problemi Goblin Tutto il rumore della nostra mineraria Sta attirando la loro attenzione Non possiamo fargli credere Che siamo una facile preda Attacca il loro accampamento Sulle rive del fiumo Fiumo Vabbè credo che ci siano dei problemi Di traduzione non solo qua Ma anche in altri punti 20 monete d'oro ora Altre 80 quando sarai tornato Come potete vedere Qua è diventato giallo Perché ci fa vedere Che abbiamo una nuova missione Cioè sconfigge tutti i goblin Dell'accampamento sul fiume Allora noi andiamo Sperando di fare abbastanza in fretta Perché Il video è già quasi di 10 minuti In realtà Quei goblin Non dovrebbero darci Grandi problemi Se non Quelli di livello 3 Ci saranno dei goblin Di livello 3 Con attacco da distanza No Forse con attacco Ravvicinato Adesso non mi ricordo bene Però comunque Ci potranno dare Dei problemi Ci sbarazziamo velocemente Di questi goblin Che troviamo qua Sul nostro percorso Come potete vedere Qua c'è una specie di mini mappa Non è molto Non è né dettagliata Né facilmente comprensibile Però Una volta capito bene Come funziona Potrebbe essere utile Soprattutto per non andare A scegliere delle strade Che non portano da nessuna parte Allora mi pare che sia proprio In questa direzione Cioè in questa direzione Di sicuro Ma non lo so perché Ci sono due Due posti qua vicino Uno conduce Al punto esatto L'altro invece È una specie di vicolo cieco Forse è qua Forse forse è qua Non ne sono sicuro Però dovrebbe essere Quassù O forse è il vicolo cieco Speriamo di no Ah Mannaggia Erano troppi Erano troppi E non sono neanche sicuro Che sia il punto giusto No no Dovrebbe essere Il punto giusto Adesso dobbiamo ritornare Fin lassù E ci ritroveremo Di nuovo Tutti questi goblin In mezzo ai piedi Cercheremo di fare Più attenzione Adesso sapendo I goblin Sono ubicati Sempre più Nelle stesse posizioni Non sono Nelle stesse Identiche posizioni Naturalmente Però comunque sono In un'area Circoscritta E tutte le volte Che ci passeremo Di qua Troveremo sempre Questi nemici Anche semplicemente Entrando nell'altra parte Della mappa E Riuscendole subito Qua ritroveremo Tutti i nemici Come Come erano Prima che li sconfiggessimo Questo può essere Molto comodo Per allenarsi Però può essere Molto barboso Soprattutto quando bisogna Tornare da Luoghi un po' più Lontani Senza usare Warp zone Perché Presuppone Che si debbano Sconfiggere Molti Molti Nemici Sulla strada Del ritorno Dopo Veri sconfitti All'andata Tra l'altro No Non è E Dovrebbe Essere Di qua Ok Adesso qua C'è l'accampamento Quindi facciamo Bene Attenzione Sconfiggiamo Questo Intanto Sempre un punto In più E Vedete Abbiamo trovato Subito Un pugnale Arrugginito Però Potrebbe comunque Eserci utile Oh qua Ce n'è ancora Un altro Ai nemici La smettono Di inseguirvi Una volta Che Scomparito Dalla loro Vista Una volta Una volta Che loro Sono lontani Dalla Dallo schermo Non sono più visibili Diciamo Non vi inseguiranno Più Questo può essere Comodo Per disperderne Alcuni Ed affrontarne Solo un po' Alla volta Ok Adesso questo È l'accampamento Di cui ci parlava Il tizio Che ci ha dato La missione Come potete vedere È molto Dispersivo Molto complesso Perché È tutto Disposto Su varie isole Vicine Ma questo Di sicuro Ci ha vantaggio Perché Avendo un'arma Da distanza Spesso Costringiamo I nemici A un percorso Molto lungo Che potrebbe Vederli morire Prima di arrivare Insomma Ecco Potete vedere Che questo Qua È uno Dei Dei goblin Di cui vi parlavo Prima Sono Dei goblin Abbastanza Forti Con cui Bisogna Avere cautela Perché Possono Infliggere Davvero Molto danno E quindi Bisogna Prestare Particolarmente Attenzione Vai Scusate Un po' Di euforia Però Come potete vedere Comunque I nemici Sono per lo più Ecco Sono per lo più Più forti Di me Comunque Sono morto E abbiamo Ricominciato Dallo stesso Punto Dall'accampamento Sul fiume Vediamo se riesco a risolvere Il tutto In poco tempo Se no credo Che ci ritenteremo Nel prossimo episodio Comunque Comunque Per lo più Sono dei Dei nemici Da Incontro avvicinato Soprattutto All'inizio Più avanti Si potranno Trovare Più spesso Dei E avete visto Con due colpi Ci ha Direttamente Ucciso Sono parecchio Forti Forse ci Converrebbe A questo punto Utilizzare Il nostro Incantesimo Che impedisce Al nemico Sia di muoversi Che comunque Di attaccare Per pochi secondi Però Molto spesso Sono Sufficienti Eh Sono rimasto Distratto Dall'altro Buono Riproviamo Scusatemi Se Sto sbagliando Così tante volte Potrei tagliare Il video Però vorrei Farvi vedere Tutti Tutti I nemici In pratica Perché voi Almeno Possiate Rendervi conto Di come Di come La situazione No Con lui Non ha funzionato L'incantesimo Non riesco A capire Qualmai Anche perché Solitamente È efficacissimo L'ho usato Molte volte Proprio Con questo scopo Abbiamo pochissima vita Conviene che Ne recuperiamo Un po' Vediamo Qua c'è una cassa Benissimo 13 goblin Benissimo Beh Per questo episodio Credo che sia abbastanza Continuerò nel prossimo Arrivederci Ciao a tutti Sì Grazie a tutti.